Dopo aver visto l'armonizzazione della scala maggiore con le radici 2 di Do e 3 di Re, adesso siamo alla radice numero 1, quella di Sole, l'armonizzazione della scala che sentiremo tra poco prevede un ritmo, un ritmo che è il reggae, un ritmo che è entrato nella storia di tutti noi grazie a personaggi come Bob Marley in prima istanza e gruppi come Ipolis. Il ritmo prevede i sedicesimi, pause di un ottavo ma ascoltiamolo, l'esercizio è il numero 56. Il ritmo prevede i sedicesimi, pause di un ottavo maggiore con le radici 2 di Do e 3 di Re, prevede i power chords per il percorso ritmico. Nell'esercizio numero 57 di fatto sentirete delle sonorità rese famose dai generi quale il rock o levi. Ecco, sono accordi sospesi, sono accordi dove la terza, l'intervallo di terza, maggiore di terza o minore viene omessa per cui troverete nella sigla, la sigla accanto alla tonica, quindi C per esempio Do, troverete il 5, significa dovete omettere la terza. Ascoltiamo questi groove ritmici, l'esercizio è il numero 57, prima ovviamente ascolteremo gli accordi puri, cioè senza il groove ritmico. Il ritmo prevede l'esercizio è il numero 57, maggiore di terza. Il ritmo prevede l'esercizio è il numero 57.